Questo Vesuvio lo hanno un po' cementificato, allora il poeta, il poeta parla del Vesuvio, come dice quello che sta porne a essere, dice ma sono pizze casa o sono pizze galera, a non tu stai, tu c'è la mamma di casino, te ne dimenticate di fare tante case vicine che tu vuoi carcerare, però tu si o vorresti accendere, sei pocano, sei un bradesismo, sei un passione, sei un convivere con tutto il cuore navoletano e tutta la caldera della passione della Tavoreata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.